Che cos'è la consulta delle società scientifiche per la riduzione del rischio cardiovascolare? Da chi è formata e soprattutto quali sono i suoi obiettivi? L'abbiamo chiesto al direttore scientifico della consulta, al professor Giuseppe Mancia, che abbiamo incontrato qui a Milano nel corso di un evento che ha visto riuniti molti dei rappresentanti della consulta. Professor Mancia, innanzitutto che cos'è esattamente la consulta per la prevenzione cardiovascolare? Chi siete? È un insieme di società scientifiche, tutte interessate alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, ma in diverse ottiche e da diverse prospettive. L'obiettivo che si pone è quello di avere una voce comune sui numerosi problemi che interessano la prevenzione cardiovascolare, facilitare le interazioni e la interdisciplinarietà culturale, che è una componente fondamentale non soltanto per la pratica medica, ma anche per la ricerca scientifica, e unirsi in qualche modo per rinforzare la voce della ricerca, ma anche della clinica, nelle misure istituzionali che vengono prese a livello di prevenzione. Ricordiamoci che si parla tanto di prevenzione, meglio prevenire che trattare, ma poi a livello pratico, e questo è vero per tutti i tipi di prevenzione delle malattie, la prevenzione non è all'attenzione massima delle nostre istituzioni. Quante sono le società scientifiche che fanno a capo la consulta? Quanti siete? E quindi complessivamente quanti sono, grosso modo, gli specialisti che sono riuniti sotto questo cappello? Sono 15 società, naturalmente quelli che partecipano sono i membri delle società scientifiche individuali, che ovviamente sono numerosissimi, se non le consideriamo tutte quante insieme. Ma ovviamente la consulta non ha come obiettivo quello di interferire con le attività delle singole società, ma da ripresentare un momento nel quale vi è un'amplificazione del loro ruolo, in qualche modo, stando tutti quanti insieme. Ci può fare qualche esempio già di iniziative che avete condotto, che state conducendo in questa direzione più politica, se mi pari di capire? Beh sì, però sono stati prodotti numerosi documenti scientifici, uno per esempio abbastanza recente sul problema dell'equivalenza terapeutica, che è un problema molto importante, che va trattato su base scientifica, non su base politica. Ovviamente la base politica economica è anche importante, ma bisogna anche stabilire come si stabilisce l'equivalenza terapeutica e qui i criteri scientifici la dovrebbero fare da padrone. In passato sono stati prodotti numerosissimi documenti, anche per esempio sul rischio residuo, per esempio sul valore regale delle linee guida, che lo Stato italiano sembra favorire. Anche i medici si sentono un po' rassicurati, ma che su base scientifica non ha molto senso, nel senso che gran parte delle raccomandazioni sono raccomandazioni dell'esperto e sembra un po' difficile dare valore legale alla raccomandazione dell'esperto, anche se sono raccomandazioni di un buon esperto e via di seguito. Quindi la consulta prende posizione su tutta una serie di problemi con l'accordo delle varie società. Direi che l'accordo su quelli che sono i principi scientifici che devono guidare l'azione è molto molto stretto tra le varie società, diciamo che i motivi di dissenso sono quasi inesistenti.